Come stanno andando questi primi allenamenti? Molto molto bene perché il gruppo è praticamente composto per metà da giocatori nuovi che non hanno mai fatto parte nazionale e alcuni addirittura la prima volta che si approcciano al vicenduo, ma devo dire che in pochissimi allenamenti perché finora abbiamo fatto i tre, hanno dato segnali molto positivi, molto interessanti, abbiamo lavorato, abbiamo messo tanta carne al fuoco ma i ragazzi ci sono con la testa, in questo gruppo si devono aggiungere minimo 5-6 titolari che fanno parte in pianta stabile della nazionale senior e quindi non posso che essere contento, chiaramente andremo a giocare contro squadre blasonate, quindi dobbiamo rimanere con i piedi per terra ma la strada è lunga e noi abbiamo iniziato con molta positività. Quali sono gli step sia come programma proprio che anche nella tua testa di avvicinamento alle qualifizioni? Allora, sicuramente gli obiettivi sono quello delle qualificazioni all'europeo e poi di poterci qualificare alle Olimpiadi Europee che ci saranno in Polonia questo è un nuovo format che è stato, diciamo, tra virgolette inventato, quindi noi vogliamo partecipare, faremo di tutto per arrivare tra le prime sette per qualificarci voglio creare un gruppo giovane con cui poter lavorare 6-8 anni per arrivare al massimo livello di questo gruppo quando avranno tutti intorno ai 28-30 anni, sono tutti ragazzi molto giovani, abbiamo dei 97, dei 2000, del 2001 quindi penso che si possa lavorare molto bene con questo gruppo.